La festa della Madonna delle Grazie domani e domenica, anche in diretta su Canale 74. Tutto pronti infatti per uno tra gli appuntamenti religiosi più sentiti dai cittadini modicani, soprattutto in questo periodo di emergenza. La stessa Madonna, il cui quadro lo scorso 21 marzo, fu portato sul sagrato della Basilica per benedire ancora una volta la città di Modica e liberarla dalla pandemia. Il tutto ricordando gli eventi prodigiosi del 1626 e del 1709 attribuiti alla tavola in Ardesia con l'effigie della Madonna, quando miracolosamente furono fermati prima la peste e poi il tifo. Adesso, dopo uno slittamento di una settimana sempre a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, domani, 30 maggio e domenica 31, la Basilica Santuario della Madonna delle Grazie di Modica è pronta per riaccogliere i fedeli e celebrare le sante messe, seppur con le dovute restrizioni. Oggi infatti, ultimo giorno di prenotazioni per poter assistere alle celebrazioni eucaristiche, al via da domani con quattro appuntamenti con i fedeli e tra questi due trasmessi integralmente in diretta su canale 74. Si inizierà alle 17 per proseguire alle 19 e poi alle 21 la messa in diretta anche su quest'emittente e alle 22 altra diretta in occasione della vigilia della festa della Madonna delle Grazie. Domenica invece, come da tradizione, si inizierà alle 5 con la Santa Messa dell'Aurora dal piazzare della Basilica, anche se quest'anno mancherà il pellegrinaggio dei tanti devoti che a piedi scalzi raggiungono dalle proprie abitazioni la Basilica per assistere alla prima celebrazione. La giornata di domenica sarà comunque scandita da numerose celebrazioni eucaristiche. Si proseguirà infatti con le sante messe quasi ogni 90 minuti la mattina e poi il pomeriggio gli appuntamenti delle 17 e 30, delle 19 e 30, che sarà possibile seguire anche in diretta su questa emittente e infine alle 21. Tutti appuntamenti che saranno celebrati nel piazzale della Basilica osservando precise misure anticontagio, tra queste quella dell'utilizzo di guanti e mascherina e come accennato il distanziamento sociale reso possibile anche dal numero già fissato di 300 persone in tutto. Per questo si è deciso di procedere con le prenotazioni online al fine di mantenere sempre sotto controllo il numero dei fedeli. Grazie.